Ciao, oggi andiamo in Liguria! Oggi, cominciamo la nostra videoricerca sulla Liguria. Chiaramente una videoricerca perché in un video non posso mettere tutte le informazioni, ma ci tengo che tu la faccia. Io in questo video preparerò delle basi in modo tale che la tua ricerca possa essere il più autonoma possibile. In descrizione troverai una scheda da poter utilizzare per prendere appunti, ma anche per implementarla con altre informazioni che comunque troverai sia nei tuoi libri, ma anche, perché no, nei link che ti lascio in descrizione con altri siti, altre fonti di informazione e anche altri video. Quindi cominciamo a parlare della Liguria, territorio che si chiama così dal popolo dei Liguri, popolo che discende anche dai Celti, un popolo antico che viveva in queste zone. Allora, andiamo a vedere nella cartina dove si trova. Allora, così a occhio, sai dirmi dove si trova la Liguria? Pensaci un attimo. Eccola qua. Adesso andiamo a vedere i suoi confini. Allora, come vediamo, guarda bene anche la bussola, a sud la Liguria è bagnata dal mar Ligure, appunto. A nord confina con il Piemonte, con un pezzettino di Lombardia e con l'Emilia Romagna. A est un pezzetto anche di confine con la Toscana. A ovest, inoltre, confina con la Francia. E quindi con uno stato diverso dal nostro. Allora, andiamo a vedere anche quali sono le città più importanti. Abbiamo i capoluoghi di provincia, sono Genova, che è anche capoluogo di regione, Imperia, La Spezia e Savona. Allora, andiamo a guardare il territorio in percentuali. Come sempre, lo sai, no? Lavorare in percentuali significa dividere il territorio ipoteticamente in 100 parti uguali e distribuire in proporzione montagna, pianura e collina. Come vedi da qua, abbiamo il 65% di montagna e il 35% di collina. Dove è la pianura? Non ci sono grandi pianure in Liguria, se non lungo il litorale, lungo la costa. Questo già è un dato importante. Ci fa capire già alcune cose. Parliamo ora della densità di popolazione della Liguria, cioè il rapporto tra gli abitanti e l'estensione del territorio. In Liguria, per esempio, lo spazio, il territorio non è molto vasto e non ci sono tantissimi abitanti rispetto ad altre regioni, ma essendo il territorio molto più piccolo rispetto ad altri, c'è un'elevata densità. Si parla di 279 abitanti per chilometro quadrato. Tantissimi. Pensa che per densità è la quarta regione d'Italia nella classifica della densità delle regioni italiane. Andiamo a vedere poi la nostra cartina fisica. Come vedi, ci sono prevalentemente montagne e colline. La parte verde riguarda solo le coste. Non ci sono grandi pianure. Anche i fiumi che l'attraversano sono molto piccoli. Andiamo a vedere poi nel nostro quadernino di geografia le varie caratteristiche. L'orografia, cioè i rilievi. Abbiamo le Alpi Marittime e l'Appennino Ligure e il Colle di Cadibona. È famoso il Colle di Cadibona perché è proprio il punto di separazione tra le Alpi Marittime e l'Appennino Ligure. Il Colle di Cadibona iniziano o terminano, dipende dal punto di vista, le Alpi e iniziano o terminano gli Appennini. Non vi sono grandi pianure e le colline tra le montagne e il mare sono molto tipiche di questo paesaggio con i terrazzamenti e dei pendii molto ripidi proprio perché le colline si trovano tra le montagne e il mare. Per quanto riguarda l'idrografia, lo abbiamo già detto, ci sono fiumi relativamente più brevi ma anche dei fiumi un po' più lunghi che nascono in Liguria ma che poi proseguono in altre regioni per esempio il Tanaro, lo Scrivia e la Trebbia oppure fiumi più brevi che la attraversano il Magra e il Lavagna per esempio il Lavagna, non la Lavagna, la Lavagna si trova a scuola e è bagnata dal Mar Ligure. Si divide la Riviera Ligure in due parti la Riviera di Ponente che va da Ventimiglia dal confine con la Francia fino a Genova che è bassa e sabbiosa e la Riviera di Levante che va da Genova verso Est che è più frastagliata. Il clima è mite grazie soprattutto alle montagne che la riparano e anche ovviamente dalla presenza del mare. Le attività economiche in Liguria difficoltose è l'agricoltura e quindi si creano terrazzamenti viti, olivi, ortaggi e soprattutto fiori sono le culture particolari di questa regione. Però ovviamente ci sono industrie del settore navale e lavoro di materie prime da trasportare con il trasporto navale metallurgia, raffineria di petrolio molte industrie alimentari e il commercio marittimo grazie ai numerosi porti pensa che il porto di Genova è il porto più grande d'Italia. Quindi non solo il trasporto di materie prime riparazione di navi costruzione di navi ma anche il trasporto di passeggeri. Ovviamente anche in Liguria il turismo è un'attività molto importante per il turismo culturale per le città d'arte balneare per le spiagge le vacanze e anche naturalistico per i bellissimi paesaggi che ci sono tra il mare e la montagna. Quando parliamo però di geografia è importante anche collegarla alle altre discipline per questo ho pensato dei collegamenti anche con storia e con scienze. Per storia per esempio ho cercato degli aneddoti o degli episodi storici per ogni regione. In questo caso ti voglio parlare appunto di Genova che era una delle quattro repubbliche marinare. Genova era una città così potente, così ricca che era indipendente dagli altri stati vicini. Genova quindi era una delle città più ricche del mondo. Per quanto riguarda scienze invece ho cercato uno scienziato o una scienziata per ogni regione. In questo caso ho trovato la storia di Giulio Natta che era un ingegnere chimico e nel 1963 ricevette il Nobel per aver studiato i polimeri cioè delle macromolecole. Ecco, quindi la nostra ricerca è quasi terminata ma non potevo non dare la parola ai Liguri ai miei amici che vivono in Liguria chiedendogli una videocartolina. Ciao maestro Tommaso per me la Liguria è questo avere il mare a due passi da casa. Ecco, questo è Genova i suoi vicoli sotto Ripa che è la parte proprio centrale del cuore di Genova e qui abbiamo il Porta Antico con il suo acquario. Ora ci avviciniamo. Questo è proprio l'ingresso dell'acquario di Genova bellissimo con tutte le sue vasche con dei pesci unici. A fianco all'acquario abbiamo la biosfera che ospita un gran quantitativo di volatili, rettili che proprio all'interno della biosfera hanno trovato il loro habitat naturale. La ruota panoramica la più grande d'Europa viene ospitata sempre qui al Porta Antico. Ecco, adesso chiedo aiuto a voi bambini, genitori, insegnanti, liguri sicuramente avrete notato qualcosa che in questo video manca allora chiedo il vostro aiuto chiedo una videocartolina da voi mandatemela nella mail che trovate in descrizione e chissà che possano nascere nuovi contenuti grazie al vostro contributo. Io non mi resta che augurarvi una buona ricerca e ci vediamo alla prossima regione. Ciao! 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 Grazie a tutti.